Mio carissimo Tritone, buonasera, adesso ti presenti, ci dici chi sei, cosa fai nella vita, il tuo codice fiscale, il tuo codice della carta di credito e poi spieghi ai carissimi... Vosti è quello del mio amoroso? Va bene, va bene, va bene, dacci soldi a tutti i codici di morosi, te ne puoi rifare mille. Quello del ninja? Sì, 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 sì. Io sono Tritone e oggi sono qua per pullare dalla mitica Joule e siamo qui per pullare Kinnitsch e Cevrez, perché non ho Cevrez, rendiamoci conto, ho provato a pullarla nel banner di Navia, neanche una copia, una cosa vabbè, e la sua arma. Ho il 50-50 e ho speso tutte le mie risorse che avevo risparmiate per lui da Emily. Allora, do già un'occhiata al tuo Pitui, così... Dovrei essere 27. E dobbiamo vincere il 50-50, perché per l'appunto abbiamo la signorina Emilia, Florina, Draghina, Clara. E poi Clorind era uscita anche a P.T.30, quindi facciamo star. Ah, wow, perfetto. Quattro stelle, immagino che l'obiettivo sia Cevrez, visto quello che c'è. Sì, più ce ne abbiamo più è meglio, le altre due non mi interessano, ce lo ci sei, sincero. E se dovessimo perdere il 50-50 e cadere dalla liana di Tarzan, quale altro gorilla ti andrebbe bene? Allora, l'opzione è una, o anche la seconda, che è una che sto usando molto, che è Deia. Perché anche per Kinnice, secondo me, si può utilizzare molto bene. O Tignari, che è un altro mio main, io sono main arco, cioè io amo gli archi, mi piacciono troppo. Loro due. Poi c'è un uomo mascherato che mi sta perseguitando, perché mi è uscito due volte nel banner base. L'ho fatto C3 in tipo un giorno, quindi spero che non appaia. Quindi non diciamo il suo nome, allora. Poi andiamo di molti. Ok, ci tengo a mostrare a tutti il santino che utilizzerò ora e per sempre. Credo che sia esplicativo, diciamo self-esplicativo. Oddio, non lo vedo io, aspetto. Eh no, tu devi vedere la live. È Robin, il personaggio che mi ha voluto più bene della storia di Gacha Oilers. Niente, facciamo queste tre singoline, andiamo a 28. E vediamo un po' come vanno. Mamma mia, dopo il disastro di Kachina, mi sembra di aver smesso di pullare su Genshin tipo ieri. Se succede il disastro di Kachina qua con Chevrolet, io mi potrei buttare dal balcone. No, no, stai tranquillo, eviterò. Non voglio averti sulla coscienza, ci mancherebbe. Dai Chevrolet. Per favore Chevrolet. Eccola qua, è proprio Chevrolet. Eh, lei, proprio lei, guarda, uguale. Bello iniziare subito nei banner e pullare l'arma. Una bella arma, noi pulliamo il banner personaggio per avere le armi, no? Siamo a PT40 adesso, ragazzi. Bella pull. Già iniziamo, ma... Chi bene comincia, bene comincia. Bene comincia. Andiamo a 50. Chevrolet, ti prego. Questo non è Chevrolet. Allora, questa, allora, allora, Genshin. Allora, allora. Allora. No, no, no. Allora. Allora. Allora, questa non è Chevrolet, quindi io non sono comunque contenta del d'oro. Ok, detto questo, dammi almeno chinicio per farti perdonare. Oh, ma fatti perdonare. Ecco, che cosa è? Chevrolet. I presupposti con Toma non sono buoni. Ragazzi, chi ha sfortuna con i quattro stelle vince sempre col cinque stelle, ricordatevelo. Potrei avere un infarto. No! Tu mi stai perseguitando. Cosa vuoi? Mi sei uscito due volte nel base. Cosa vuoi? Non è possibile pullare così male, ragazzi. No, no. Allora, io non posso mettere queste vocazioni su YouTube perché mi vergogno... Cioè, due cose mi aveva chiesto. Chevrolet e di non pullare lui. Ho schivato Chevrolet e ho pullato lui. Santino, tu su un gioco funzioni, sull'altro gioco proprio vai a letto, eh. Il letargo, te. Ci rivediamo a maggio. Allora, almeno ho uscito prima. In queste singole, dai. Chevrolet, 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 Chevrolet. Fan c***o, fan c***o, fan c***o. Allora, io voglio una cosa che ha in Scimic. Una, l'ho provato da Navia. Otto. Per favore, aiuto. Chevrolet. Io ci ho messo 53 vocazioni per trovare una Chevrolet, Triton. È proprio... Ma cosa che entri? Ma proprio le... Ma una fotocopia della nostra Chevrosita, questo personaggio. Ma... Ma no! Toma, torna da Yato. Non venire qua, per favore. L'esperienza 4 stelle su Genshin Impact è sempre fantastica, comunque. No, ma... Fate un pt per i 4 stelle, per favore. Chevrolet, te lo sto chiedendo in ginocchio. Ho trovato la seconda in golfing. Raga, ce n'è uno che sta pullando bene. Uno, vi prego, uno in chat può scrivere. Sto pullando bene. Ho trovato tanta Chevrolet. No, prima ho letto di un ragazzo che ha fatto una singola trovata Chevrolet. Che è quello che succederà anche a noi. Vero? Noi. Noi! Ma che... Non è possibile. Non è... Io sto... Sto facendo un pt intero. Ti vedo un po' salata. E non è neanche il mio account me. Cioè, ma stiamo scherzando? Ragazzi... Beh, beh... Ma è... Bella, bella. Ragazzi, volete vedermi veramente salare? Recuperate i miei short sulle mie vocazioni per Cacina. Andate a vedere quanto ho speso per una copia di Cacina. Le fatture delle fan atlan sono spariti. Sono rotti, sono rotti. Sai chi è che si dovrebbe rompere? La tibia di Toma, porca vacca. Così non cammina più e non lo vediamo più nelle pull. Allora, io spero che Kinnis stia facendo tutto questo per arrivare con Chevrolet, vero? Cioè, lui vuole fare un'uscita con Chevrolet. Ragazzi, io vi darò un unico momento di serietà in queste vocazioni. Adesso mi prendo l'unico momento di serietà. È ovvio che questo gioco ha un problema con i quattro stelle, perché non sono nemmeno nel negozio. Cioè, se tu almeno li mettessi a rotazione nel negozio, dici, con tutto lo schifo che pullo, uso gli Star Glitter per prendermi il quattro stelle che voglio. No, neanche quello. Ci sono gli stessi da quattro anni. Genshin Impact, sistema i quattro stelle per vorre. O sistemi rate up... Ci sono solo quelli del 1.0. O sistemi rate up o li metti nel negozio, perché così la situazione è ridicola. Ci sono delle quattro stelle come Chevrolet che sono metadefining. Devi dare la possibilità a tutti di averli. Chiaro, Genshin Impact? Grazie. Magari esce in singola, di che sono le singole, non lo so. 73. Sì, a lei piacciono i calci nel sedere che si prende quando esce. Sì, esce. 74. Questo è Kimmich. No! No. È lei! Aspetta, aspetta. È lei! Sì! È entrata nel team. È per questo che ho ragazzo. Esatto, ci ho pensato anch'io, perché non ce l'avevi. Sei... Sei... Io non ti dico cosa sei. Lurida! C'hai messo quasi 100 pull per uscire. Sei uscita all'ultimo, proprio sul passo per finale. Cioè... Non ho parole. 75. Dai, Kimmich. Allora, se hai un'altra Chevrolet potrai impazzire. Bella! Bella! Elegante, proprio. Elegante. 76. E Kimmich, non la PT 90, grazie. Ah, ok. Adesso. Fermi, è vero. Tecnica su Ica. Sparo la multazza? Yes. Due Kimmich. Allora, due Kimmich sarebbe, secondo me, un ottimo compromesso. Ma anche Kimmich, Chevrolet, 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 Chevrolet. Tutte Chevrolet. Andiamo. Allora, un Kimmich c'è. Uno c'è. Non è qui. Non è là. Tutti in alto. Madonna. Il piede. C'è il piede in una massa in forme. Ciao, bravo. Bella, io l'adoro. Quel dragone è bellissimo. No, ma lui ha proprio le animazioni belle. Esatto, 76 è la tecnica Joule. È la tecnica Chevrolet. Chevrolet. Sì. Beh, hai già più Chevrolet di me. Dai. Questa subito doveva uscire. Questa qui è la multi che auguro a tutti. Mi state guardando, vi auguro la multi così. Io spero che nelle armi mi tratti bene, perché se no... È vero che ci tocca il banner armi adesso. Allora, io ho fatto i calcoli. Dovrei comunque prendermi l'arma. O in qualsiasi caso dovrei prendermela, perché se non erro ci danno ancora una multi e anche altri eventi. Quindi dovrei comunque riuscire a prenderla. Io prendo, eh? Quei quattro stelle potevano essere quattro stelle di nuovi, non lo so... Che ci stanno dalla 1.0 e credo che tutti abbiamo, ci sei. Cioè ormai... Molti, molti, sì. Solo che adesso andare fuori banner fa abbastanza cacare, perché... Prendete il mio esempio con Mulani. Sono andata fuori banner, l'avevo garantita, l'avevo garantita in ogni caso. Cioè adesso, perché adesso con due punti è sempre comunque l'arma che volevo dopo. Quindi tu hai anche sprecato un garantito. Cioè fa veramente cacare andare fuori banner adesso nel banner armi. Non so se ci avevate fatto caso. Allora, 62. Cos'era questo lag? Una gioia? Ma se... Niente. 63. Una gioia? Ma no! 64. Ehi! Attenzione! Dai, spadone! È proprio lui, signori! Sì! Yes! Ok, meno male. Una gioia. Una gioia c'è stata. È bellissima. Guardate l'effetto sulla spada, ragazzi. Sullo spadone, scusate. Non l'avevo visto! È troppo bello! Madò, bellissima! Poi cambia. Tutto pixeloso. In teoria sì, se la scendi poi dovrebbe cambiare. Niente, mio carissimo tritoncino di quartiere. Io spero che tu sia stato soddisfatto. Dai, almeno l'arma di Kini ce l'abbiamo tirata fuori subito. Signori, era da un botto che non lo facevo. Abbiamo il nuovo punto! Tuffo nel vuoto! Vai, Chevrolet, impara a uscire prima. Raga, questa pista, siamo tutti d'accordo che l'hanno fatta per me? Siamo tutti d'accordo che si ricomincia a defenestrare gente a cannone? Eh, Jul! Questo non l'ha detto nessuno, è una gag. Sei cattiva, butti giù i personaggi! Non hai rispetto per i miei personaggi preferiti? Cioè, guardate dove si fanno trovare gli utenti. Raga, voi volete che i personaggi vengano defenestrati? Voi volete che i personaggi diventino delle pancakes? Dei pancakes! Cioè, guarda qua! Buonasera! Buonasera, buonasera! Si presenti anche lei, ci dica cosa facciamo oggi, quali sono i nostri obiettivi, perché ha deciso di mettersi in questo posto estremamente pericoloso, ma immagino che sia sempre per agitare. In realtà l'ho fatto un po' apposta, vede. Il nostro occhino, vabbè, allora, mal che vada il primo personaggio che esce che non volevamo, lo buttiamo giù. Allora, io sono Stefano, mi faccio chiamare Toschi di solito, e niente, oggi puliamo Kilic e l'arma, e questo. Cioè, spero di vincere almeno uno dei 50 e 50, così ce la faccio. Allora, nella tua vita c'è bisogno di una chevreuse o no? Ah, sì, sì, la vorrei per provarla con Arlecchino. Ok. Per fare un team un po' più. Non ce l'hai proprio o ne hai almeno una copia? Eh, zero, zero. Voi mi mettete veramente in difficoltà, però devo sapere. Non mi ricordo con chi uscì, però non la pullai proprio. È uscita con Raiden e Yoimiya, un banner assurdo. Io mi ricordo che ho pullato solo per lei. Perciò, perciò non l'ho pullato. Eh, sono stati veramente fettenti. Questo è già un banner migliore, anche se oramai mi sa che ce la teniamo appiccicata a Raiden. C'è Raiden, c'hai già Sara. Vabbè, comunque. Andiamo a vedere il tuo Pitui. Allora, 5x4, 20. E il Pitui è 20. Anche tu, seguace di Kinic con già la tua Emily in saccoccia, noto. Sì, voglio la Zanna, però se mi esce l'Engulfing, tanto meglio. Anche se non ho Raiden, la metto su Shaling, in realtà. Perfetto, ragazzi. Guarda, visto che siamo già a numero pieno, possiamo anche andare di molti, per me. Sono d'accordo, andiamo di molti. Andiamo a 30. Poteva essere già un Kinic, potevamo già essere tutti a cena e invece... Speriamo Sheffron. No, Diluc Burgeon non è male, ragazzi, però ovviamente Diluc ha altri team. E poi figuratevi, adesso Diluc vuole stare sempre con la Papera, la Gwendalina Blablabla, Shanyun. Con Shanyun fai fatica a fare un Burgeon, eh. Cioè, almeno ci puoi provare, ma... Shanyun di solito fai un vape. Però sì, è una possibilità. Chevreuse. Ah, beh. Ah, nice. Qui abbiamo già un karma molto più potente, eh. Eh, sono abbastanza fortunato su sto gioco, spesso, quindi... La cosa che mi preoccupa è che chi è fortunato è sempre fortunato, chi è sfortunato è sempre sfortunato. Questa cosa che è in Shanyun la devi un po' sistemare, eh. 74. Tanto la mia voce sta andando via, ragazzi, portate pazienza. Ah, quattro stelle. Shavros. Vabbè, ma... Eh, va. Che ce l'ho? C4? Eh sì. Probabile. 75. Shavros è così, ragazzi. O è vostra o non è vostra. Multazza? Se esce anche doppio Kinnic, ti potrebbero venire sotto casa, eh. Vabbè. Per Kinnic questo è altro. Vabbè, doppio non penso, dai. Dai, Kinnic, due volte. Anzi, dai. Dai, Umi, lì. Basta una volta, vinciamo sto 50 e 50, please. Chi ha scritto Mona? Mamma mia, ragazzi, voi giocate col fuoco. Tutto non Mona, vi prego. Dai, fammi vedere quella bella chiazzona di animazione. Giusto, devo bere. Beviamo, idratiamoci. Così scacciamo Mona. Dopo un'idratazione del genere, secondo voi, il gioco si permetterebbe di farci perdere un 50 e 50. No, infatti, chi si idrata, pula bene. Praticamente hai preso solo Chevroise e hai vinto il 50 e 50. Sei il polo opposto del povero Triton che è venuto prima. Mi ha lasciato tutta la sua fortuna. Esatto, sarà felicissimo. Eccolo. Meno male. Ti devo dire, guarda, se perdo per l'engulfing, cioè, non è che mi lamento alla fine. Quindi. Allora, 16. Io lo Skyward Atlas, ragazzi, l'ho pullato. Speravo di giocarlo, eh? Non sono mai riuscito a giocare. Neanche su Rizely, che Rizely lo gioca. 16. Io te l'ho messo su Rizely in realtà. No, Rizely è uno dei pochi che lo gioca parecchio bene. Skip! Vai. Vabbè, è buono. Lanciavo le costellazioni, quindi. Cosa ci fa qui lei, signorina? E' proprio l'arma di Kinnitch. Ningguang oggi è... 70. No! Oddio! No! Ho sbagliato! Non dovevo fare la multi! No, ho sbagliato, perdonami. No, va bene, va bene, va bene. Te l'ho sparata da 60 a 70, mi son persa. Vabbè, ti trovo lo spadone di Kinnitch, così mi perdoni. Vero gioco che mi dai lo spadone di Kinnitch. Così mi fai tamponare la gaff. Oppure sei talmente lurido che dici, eh, hai fatto la multi. Allora ti preparo a continuare a pullare, non te lo do. Please. Esatto, esatto. Uno spadone, gioco. Come questo. Madonna! L'ho chiamato, porco due. Siamo a P1. E' bello che ci faccio glorifying questo, non lo so. Io non devo fare battute. Avrei tante idee su cosa potresti farci, ma... Guarda, lo dai a Rysely? Ma sì, eh. Sì, è uscito a 69, raga, sì. Eh, back to back, per favore, che... Ma speriamo. Vabbè. Fa che pull in più. 51. Eh, ma qua hai quattro stelle, eh, sono un po' così. Allora, è il banner armi o è il banner personaggi? Vabbè, almeno escono alcuni che non ho costellati ancora. Se esce a 69 io potrei impazzire, quindi stiamo molto attenti. Ok, allora, la buona notizia è che hai l'arma di Kinnitch. Ah. 66. 67. No, 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 non può uscire a 69. Ma dai! Ma dai! Zozze! Uguale, uguale. Armi zozze! Due armi a 69! Ma cos'è? Eh, vabbè. Che banner proprio, mamma mia! Non commento. C'è un altro è bella. Che banner zozzone. Guarda, visto che nel team hai Naida, io farei una cosa e poi ci salutiamo, ma questa cosa... Non c'era bisogno di aprire questo menù, mia cara Giulia, ovvero Naida impugna questa meraviglia e vattinne nel fosso! Giusto, 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 giusto. Guardate com'è felice! Eeeh, che bella la natura! Che volo che si fa! Naida? No, voi adesso mi spiegate perché non è morta. Vola giù! Se lo rifai, Naida, guarda. Oh, mamma mia che... Si è piegata a metà, tipo lo sdraio quando vai via dalla spiaggia. Bello, bello, bello. Ciao!